Bianco Capodanno, il 2017 finisce e il 2018 inizia sulla neve. Una buona notizia per le stazioni scistiche, la neve è caduta in tutto il Veneto sopra i 1600 metri con paesaggi imbiancati anche sulle vette attorno a Vicenza. In particolare ha nevicato forte a passo Campogrosso sopra Recoaro dove lo strato bianco di neve fresca ha raggiunto i 20 centimetri, obbligo di gomme termiche o catene sopra i 1000 metri ovunque la viabilità è stata rallentata dal ghiaccio.